Ma io non mi permetto di dire nulla al Movimento 5 Stelle, c'è un travaglio che è sotto gli occhi di tutti. Mi sembra che sta emergendo quello che io dico, noi diciamo, perché il PD è un partito unito e solidale da alcune settimane e da alcuni mesi. Si sta tornando a un sistema bipolare tra due grandi campi che si contendono la leadership e lo fanno su scelte politiche alternative. Quindi io credo che questo travaglio dei 5 Stelle avrà e sta avendo una discussione, vedremo. Io mi auguro che sempre di più di questo elemento si prenda atto perché, ripeto, come è accaduto in Calabria e come è accaduto in Emilia e Romagna, alla fine si sceglie tra i due principali contendenti. E quindi credo che il Movimento si troverà di fronte a questo dilemma. Ma lo dico da alleato e non da avversario, perché questa è una cosa a cui tengo molto. Adesso c'è una verifica di maggioranza. Grazie. 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 Grazie.